Non una semplice festa di sagrestia, ma un coinvolgimento di numerosi fedeli. Gela ieri ha festeggiato la ricorrenza della Vergine Maria Ausiliatrice. Dopo una settimana dedicata alla festa liturgica, con appuntamenti in chiesa per i grinaggi giubilari della misericordia, ieri c'è stata quella che i residenti del quartiere Giardinelli definiscono la festa esterna. Il simulacro della Madonna è stato portato in processione, accompagnato dalla banda musicale Francesco Renda. La festa negli anni ha assunto un forte valore simbolico che rappresenta la vita ecclesiale e il riscatto sociale della città. Perché proprio in Maria la Chiesa contempla l'immagine della nuova città che inizia il proprio riscatto dalle periferie esistenziali e culturali e lancia un messaggio di speranza a quanti provati dalla sofferenza non sanno più guardare con fiducia al futuro. In un momento, se difficile, sotto l'aspetto economico, la festa si è svolta regolarmente, senza però i fasti di una volta. Come presidente del quartiere stiamo facendo una grande manifestazione a scopo del comitato di quartiere. Non abbiamo noi contributo di nessuno ente. Qualcuno che ha uscito qualche 10 euro, anche 20, anche 30 euro, delle persone che principalmente tengono a questa festa di qua. Altra gente che non ha uscito soldi, le banderine purtroppo non ci sono arrivate. Perché con i 50 centesimi che davano, noi non abbiamo bisogno di al 50 centesimi perché è una festa di quartiere. Questo comitato si è autotassato e si autotassa per tutti gli anni. Questa è la quarta volta che noi facciamo la festa di Maria Ausiretrice. Il simulacro della Madonna ha fatto ritorno in chiesa intorno alle 23. Subito dopo si sono svolti i classici giochi pirotecnici.